I predoni non si fermano nemmeno a Natale, arrestati dai carabinieri di Est, due cittadini marocchini trovati a Casale di Scodosia, nella bassa padovana. I uomini dell'arma sono stati allertati dai residenti che la notte tra il 25 e il 26 hanno sentito dei rumori provenienti da un appartamento. I carabinieri intervenuti con i colleghi delle stazioni di Solesino e Vescovana hanno subito raggiunto il luogo della segnalazione. All'interno dell'abitazione hanno sorpreso i due nordafricani che stavano rovistando nelle stanze. Ne è nata anche una collutazione. I ladri, entrambi marocchini di 24 anni, hanno fatto di tutto per evitare di essere identificati. Quando si sono visti braccati si sono addirittura lanciati dalla finestra, ma sono stati comunque bloccati. Sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, cappellini e guanti e sciarpe per coprirsi il volto e tutta la refurtiva. Poi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.